Un saluto a tutti cari amici e bentornati alla diciassettesima puntata di Ventaglio Podcast ufficialmente per questa stagione 2023. Si è disputata ieri la Liegi Bastogliegi e oggi ne parleremo, e non solo di quello, con Riccardo Zucchi. Un saluto. E Luca Pellegrini. Buon pomeriggio a tutti. E allora direi di partire proprio da qui, dalla quarta classica monumento stagionale che ha visto il successo del campione del mondo, Remco Evenepul, una doyen dominata. Una doyen dominata e soprattutto a causa, mi sento di dire, dell'assenza del grande rivale di Remco Evenepul, che doveva essere Tatebo Gaciar, che è rimasto vittima di una caduta dopo un paio d'ore di corsa, si è fratturato il polso ed è stato costretto a ritiro assieme al danese Michelo Honoré. un duro colpo per la Liegi Bastogliegi, perché è stato un duro colpo, perché quello che abbiamo visto all'Amstel e alla Freccia, cioè un corridore troppo più forte degli altri, si è rivisto alla Liegi in cui era Evenepul, che era proprio di un altro livello rispetto a tutti gli altri avversari. Ed è mancato quel duello che in qualche modo, ora, chiariamoci, nessuno sminuisce la vittoria di Evenepul, ma in qualche modo abbiamo visto un copione che già immaginavamo, come è già scritto, l'attacco sulla Redut, l'arrivo in solitaria, la bagara di Aero per il secondo posto, che speravamo di non vedere, perché speravamo di vedere un duello anche all'ultimo sangue, tra lui e Pogaciar, un po' come hai visto anche al Fiandre con Van Der Poel, non so se concordate con me questo punto di vista. Sì, è una vittoria di Renko alla Renko, alla tipica della Renko, complice questa assenza sulla caduta, non c'è un'immagine, non c'è una foto, da quello che pare Onorea ha forrato tutte e due le ruote e ha coinvolto Pogaciar in questa caduta, magari se c'era qualche vecchio commentatore dicevano Rex, Quickstep, lavoravano incognito per la Quickstep, no, una battuta di cattivo gusto a rimandare Kiatowski, perché tira la Polonia, in questo caso hanno fatto diversamente, eliminiamolo in altro modo l'avversario. Sì, purtroppo dopo la delusione un po', diciamo così, alla Paris-Giroubet con la foratura di Van Aert, proprio al momento decisivo, quando ci aspettavamo gli ultimi 20 km, un testa a testa tra lui e Van Der Poel, anche qua sostanzialmente dopo la caduta di Pogaciar la corsa si è spenta, quantomeno perché tutti ci aspettavamo la vittoria di Evenepul, che l'ha fatta sicuramente in grande stile, però in una corsa priva del suo avversario principale e grande favorito della vigilia. C'è da dire che la corsa, per come l'ho vista io, non è stata tanto diversa dall'Amstel Gold Race, in cui Pogaciar ha staccato Tom Pitcock e poi si è involato da solo, anche qua Pitcock è stato l'ultimo a cedere a Evenepul, poi parleremo di Pitcock perché secondo me ha senso farlo. Seconda vittoria consecutiva per Evenepul, la prima doppietta consecutiva dal 1998 Michele Bartoli, il primo a vincere in maglia di campione del mondo la Liege dei tempi di Moreno-Argentine, come ogni volta ormai si scrivono pagine di storia. Poco da dire su Renko e Evenepul perché fa qualcosa di incredibile, nel senso purtroppo è come se fossimo rimasti un po' monkey, dall'assenza di Pogaciar, però questo non può togliere nulla, non deve togliere nulla a quanto di grandioso ha fatto Renko e Evenepul perché lo scorso anno, se ricordate bene, lui vinse la legge basso in legge quasi da outsider, nessuno si aspettava questo Renko e Evenepul, cioè se ne parlava, si diceva beh sì te potrebbe piazzarsi, fare bene, invece l'ha vinta, l'ha vinta con grande convinzione, con grande autorità e quest'anno ha proprio, cioè l'ha dominata, cioè una volta che è uscito di scena Pogaciar lui ha messo la sua squadra lì davanti, tira tira tira, spianca il gruppo, scatta, saluta tutti e ci vediamo al traguardo. Cioè è stato proprio una dimostrazione di forza notevole che chiaramente lancia anche un chiaro messaggio in vista poi del Giro d'Italia, ma che veramente dimostra quanto questo ragazzo nel giro di un anno, perché poi dobbiamo pensare alla Liegi dello scorso anno come il primo punto di svolta della carriera di Renko e Evenepul in positivo, è cambiato veramente tanto, cioè è cambiato non solo a livello di successi personali, ma anche di consapevolezza, di forza e mi sento di dire anche di esplosività. Lui lo scorso anno non aveva questa esplosività in salita. Eh però l'anno scorso attaccò comunque in maniera esplosiva, eh. Quello che mi ha colpito di più quest'anno è stata la maturità, la consapevolezza con cui ha messo davanti la squadra. Lui è rimasto sempre in terza e quarta ruota, quindi ha preso anche più vento magari rispetto agli avversari. Cioè nonostante quando è partito sulla Redut ha staccato tutti, Pitcock è rimasto a vista, è rientrato in discesa ma poi si è staccato in un tratto che definire di salita è un eufemismo, però l'abbiamo detto tante volte. Luca mi sa che stai facendo un bordello. Ok, ora meglio, grazie. E ci scusiamo con tutti i nostri ascoltatori per questi piccoli problemini tecnici. Cosa stavo dicendo? Ah sì, vabbè. Come al solito lui semplicemente va più forte, l'abbiamo detto tante volte, quando uno dei primi, dei top 5, top 6 è in corsa e non ci sono gli altri, il risultato è quasi scontato. Peccato solo per il duello che non si è visto, secondo me anche il fatto che la prima notizia, perché la caduta e il ritiro di Pogaccio era avvenuto proprio mentre partiva la diretta o pochi minuti prima, quello condiziona ancora di più in quella sensazione di peccato per non aver visto il duello in sé. Anche perché comunque Venepo l'ha dimostrato di andare molto forte, Pogaccio andava molto forte, quindi in qualche modo c'erano tutti i presupposti, tutti i presupposti e purtroppo, purtroppo il ciclismo è uno sport di merda, non ascoltate ventaglio podcast, chiudete le televisioni, smettetelo di seguire, perché ci siamo... Pogaccio il microfono! Non sto stacando nulla. Eh, però gracchia. E per andare avanti voi? Andare avanti voi? Io poi torno dal mio sorolo che intanto trovo la sorpresa. Sì, il ciclismo è proprio un brutto sport. Ieri ne abbiamo viste le due facce, cioè il successo di Venepoel in solitaria, in tutto il suo splendore, con questa maglia di campione del mondo, pantaloncino bianco, a ricordare un po' quella di Bettini, sempre dell'allora Quickstep, adesso su Dal Quickstep. E invece la parte di Tadej Pogaccio, che è caduto all'una sostanzialmente, la diretta è iniziata all'una e mezza, per lui è rottura dello scafoide e di un altro osso del polso, credo. Sì, cinque, sei settimane di stop. Non è uno stop che deve stare fermo completamente cinque, sei settimane, potrà comunque allenare, certo, non al massimo, però è comunque una seconda lieggi che vi diamo con questo contrasto. La grande emozione da una parte e una caduta che tira fuori un nome importante dall'altro, perché anche l'anno scorso, l'anno scorso rimanendo in casa Quickstep stessa, era da una parte le esplosioni di Eveningpool, dall'altra la batosta da cui non si è più ripreso, Alaphilippe. La fine di Alaphilippe, possiamo dirla così. Ricordiamo che è ancora abbastanza giovane, eh? Sì, ormai la fine di Giuliano Alaphilippe con la maglia della Quickstep, attuale su Dal Quickstep. Possiamo chiuderla così, non so se sbaglio. Beh, ieri si è comunque messo a disposizione, è stato fondamentale, importante per Eveningpool, certo, non è il Giuliano Alaphilippe che ti vince due mondiali di fila e vince Liegi, Freccia Vallone e via discorrendo. Vedremo quando riuscirà a tornare ai suoi livelli, ma in questo momento non dico che è in un tunnel, sta provando a uscire, sta provando a uscirne, però non è quella Alaphilippe. Spero che possa tornare al più presto tra i migliori, perché lui ha le potenzialità, secondo me, per giocarsela con quei famosi 5-1 di cui abbiamo parlato prima. E l'ha fatto tante volte in passato, quindi concordo. Assolutamente, assolutamente. Lo scorso anno, se ricordate, parlavamo un po' di un Alaphilippe che alternava prestazioni buone e altre meno buone. Quest'anno di prestazioni di alto livello non ne abbiamo viste. Speriamo che nel finale di stagione, o io credo più plausibilmente, con il cambio di Maia che avverrà il prossimo anno, possa in qualche modo cambiare un po' la sua situazione. Mentre mi faceva piacere agganciarmi a quanto anticipato da Gianluca. Non so se volevi aggiungere altro su Evenepul. Mi sembra che abbiamo detto abbastanza tutto. Mi faceva piacere agganciarmi sul discorso di Thomas Pitcock, perché effettivamente la domanda che si pone Gianluca è molto interessante, ovvero, come valutiamo la campagna delle classiche di Thomas Pitcock? Cioè, è una campagna delle classiche positiva o è una campagna delle classiche negativa? Io voglio dare una prima risposta, se per voi siete d'accordo. Prego. Sì. Allora, la campagna di Thomas Pitcock delle classiche, alla luce della, caduta alla tirreno adriatico, dello stop che quindi in qualche modo ha condizionato la sua ripresa, la vittoria alla strada e bianca, il terzo posto all'Amsterdam Gold Race, il secondo posto alla Liegi Basso Liegi, è una campagna del nord delle classiche decisamente, decisamente positiva. Virgola. È chiaro che chi dice, chi si aspettava, chi pensava che Thomas Pitcock potesse essere uno dei Fab Five, Fab Four, Fab Six, resta deluso, almeno a oggi, nel senso che è arrivato due volte sul podio di Amstel e Liegi senza mai dare l'impressione di poterla vincere, oggettivamente, però io credo che nella maturazione di un corridore sul quale forse sono state poste troppo aspettative o semplicemente si aspettava un exploit immediato, io credo che vada più che bene ed è una ottima base per ripartire, per preparare un po' anche il futuro della carriera di questo ragazzo che ricordiamo comunque ha già fatto grandi cose e nella mountain bike ma anche nel ciclo cross. A voi la linea. Secondo me una campagna delle classiche è monca, ed è monca per il secondo anno consecutivo per problemi extra, quello che è la corsa in sé, perché l'anno scorso ebbe vari problemi intestinali ed ebbe vari continui stop. Quest'anno il fatto che lui si è dovuto fermare completamente dopo la Tirreno con una commozione celebrale, saltare una corsa di 300 km come la Sanremo e non allenarti a massimo in quei giorni, hanno fatto sì che è arrivato Monco a questa campagna, perché ha saltato quasi tutto il pavere. I risultati poi non sono male, perché i risultati in sé, però è l'ennesimo anno in cui Pitcock secondo me non era nelle condizioni ideali in cui sperava di arrivare. Per me ci sono tanti fattori, uno di questi è il fatto che lui corre nel ciclo cross e poi portare la forma dalla strada bianca che comunque è stata un mese e mezzo fa fino alla Liegi non è scontato. Mettici in mezzo anche quello stop, quell'infortunio sicuramente non aiuta. Ma in più lui in questo momento vive in un limbo, ovvero secondo me è il primo degli umani, dopo in questa campagna delle Ardenne faccio un esempio, è stato sempre il secondo prima dietro Pogaciar all'Amstel e poi dietro Evenepo alla Liegi, gli manca qualcosa per essere al loro livello, il suo problema è che ci prova. Cioè lui è molto, richiede tanto a se stesso, anche molto, com'è che si dice? Generoso. No, molto pretenzioso, ci prova nel senso, effettivamente quello che fa sia ambizioso. Lui è molto ambizioso, lui vuole mettersi a confronto con Pogaciar, con Evenepoel, l'ha sempre fatto anche nel ciclocross con Van Der Poel e Van Aert, è sempre rimasto un filo sotto, il problema è che questo a volte lo condiziona, l'Amstel ad esempio è crollato nel finale perché probabilmente ha fatto un fuorigiri devastante per provare a tenere la ruota di Pogaciar quando gli sarebbe bastato rimanere con Iley e magari portare a casa in quel caso il secondo posto in maniera più tranquilla. anche la Liegi ha seguito Evenepoel e ha fatto questo sforzo importante per rimanere attaccato, poi a un certo punto è crollato, si è staccato, sembrava che si staccasse anche dal gruppo dietro, passato quel momento lì si è ripreso ed è andato a prendersi il secondo posto. quindi non è neanche una questione di distanza secondo me perché nel finale era ancora brillante, semplicemente questa ambizione lo porta a spremersi troppo e poi a perdere lucidità in alcuni momenti di corsa, è lucidità non mentale, è fisica. Sì, aggiungo che secondo me non sa neanche proprio i suoi limiti ancora e in questo secondo me non aiuta neanche troppo la squadra, mi spiego. Nel senso con Pitcock stanno lavorando come molti altri giovani, vediamo fino a dove puoi arrivare, poi a un certo punto tireremo una riga e capiremo tu in che corridore sarai. Con lui è il punto, l'obiettivo l'hanno posto fino al 2024, vedranno, poi inizieranno a capire dove specializzarsi. Beh, non è, onestamente non è una logica sbagliata, secondo me è anche una logica vincente, cioè se noi guardiamo l'ordine di arrivo delle Liegi e Basso a Liegi, terzo Buitrago, quarto Ben Chidi, quinto Valentin Ammanua, sesso Gion Martin, tutti e ottavo anche Padri Conrad, sono tutti corridori che oggettivamente abbiamo visto molto poco e quando ha attaccato i Venepul, oltre a Pitcock si sono mossi Mattias Schielmose e Giulio Ciccone se non erro, se non ricordo male, ed entrambi poi alla fine hanno pagato un po' anche nello sprint finale perché Schielmose che non è proprio uno fermo in volata, ha perso la ruota di alcuni corritori, ha riuscito a piazzare l'attacco che sono riusciti a fare altri e alla fine ha chiuso con un nono posto, mentre è tritto una tredichesimo Ciccone che sono dei risultati non proprio esaltanti, no? Anche per le aspettative che erano in partenza. Ti fa capire che poi magari coloro che sono rimasti un po' più coperti, hanno giocato a corti e hanno giocato evidentemente sapendo di non poter seguire neanche Venepul, poi si sono piazzati meglio di chi ci ha provato. Però onestamente io non mi aspetto che mai Valentin Madua, Guillaume Martin, Patrick Conrad, lo stesso Buitraga è ancora giovane, però questi corritori non mi aspetto mai vincitori di una Liegi basso a Liegi al netto di defezioni importanti. Mentre Pitcock, io ancora oggi penso che possa, migliorando, avendo la primavera più serena, cambiando qualcosa nei programmi, magari potenzialmente diventare uno in grado di competere con Pogaciar, con Evenepul, con Banderpool eccetera. Magari non primeggiare, però competere e giocarsela, comunque essere uno che dice, oh, comunque potrebbe arrivare a giocarsela. Quindi secondo me la logica dell'Eneos ci sta, nel senso che per l'Eneos sicuramente è importante portare a casa un secondo e un terzo posto, ma forse è più importante portare a casa questi risultati con un corridore che comunque ha provato a vincere, piuttosto che con uno che ha provato ad arrivare terzo. Non so se fila il discorso. Sì, 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 no, ma quello secondo me è quello anche dice Gianluca il carattere, no? A me era più un discorso che le corse a tappe e questo tipo di corse è il pavè e le ardenne, è tanto per cercare di capire poi quello che sarà il terreno, quindi i rischi che magari ti arriva al 90% in ogni corsa, certo poi comunque ti porta a casa al secondo posto, all'AMS se l'ha chiuso terzo, nel senso di corridori se lo sognano un palmarès del genere e al momento ancora non sappiamo Pitcock che corridore diventerà. Lo sai? In che terreno. Lo sai come diciamo a Roma? Rischiare fa la fine di Florenzi. Perché che fine ha fatto Florenzi? Il giocatore è stato, è arrivata alla Roma e giocava come attaccante, poi giocava come interno di centrocampo, poi giocava come terzino, poi come esterno sinistro e di nuovo come mediano e poi come cosa? Alla fine era uno bravissimo andare benino su tutti i terreni ma non è mai diventato. Esatto sì 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 ok ok no infortuna abbiamo messo su quel piano e no 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 ma concordo loro infatti si sono posti dopo il 24 perché comunque continuerà a fare ciclocross e ciclocross penso farà anche mountain bike e vedere Pitcock che corridore potrà essere nello specifico loro si sono posti quella data però al momento sì il paragone secondo me è giusto quello. Secondo me può diventare un all arounder delle classiche poi in base a come si sente in base a come diventano in base a quello che succede può scegliere se fare maggiormente le Ardenne o maggiormente le Fiandre ed eventualmente la Parigi Roubaix che però secondo me non rientra proprio nelle sue caratteristiche essendole un po' leggerino però ormai sono discorsi superati. Luca è inutile che mi guardi con quella faccia stupita. No guarda confesso che la mia faccia stupita è stata legata a una notizia che ho appreso mentre stavo mentre stavo scorrendo un po' le pagine per preparare il prossimo argomento e niente ve la dirò poi al momento. È una brutta notizia? Una brutta notizia. Quanto brutta? Che devo rifare la formazione per il fantasailing al giro di comandia perché non corre plapp. Oh no spiace. Comunque a parte le cagate. Secondo me invece. Mi pensavo io. Eh? Chissà che mi pensavo. Diciamo che è una brutta notizia oggi arrivata mi sento di anticiparla un po' rispetto alla scaletta perché rientra un po' anche sui temi della Liegi Basson-Liegi perché abbiamo avuto ottimi segnali secondo me sia la freccia valore che ha la Liegi Basson-Liegi da Giulio Ciccone la cui stagione stava filando estremamente liscia tanto liscia molto una volta troppo liscia e tanto è vero che si è positivizzato al covid oggi e diciamo che è una notizia veramente amara da digerire chiaramente per noi come tifosi appassionati per lui non oso pensare quindi veramente mando un abbraccio virtuale a Giulio Ciccone perché arrivava al giro senza entrare nel dibattito tappe vittoria di tappe eccetera eccetera però arrivava in giro nelle migliori condizioni forte di una buona di una buona primavera tra l'altro che partiva dal suo Abruzzo e mi auguro che possa negativizzarsi e che comunque questa condizione non vada a inficiare troppo solo anche sulla tua condizione complessiva certo veramente come direbbe lui vabbè non lo dico l'hanno capito non vorrei non vorrei la z capito che poi un attimo no è un vero peccato perché comunque quest'anno aveva fatto inevitabilmente un salto di qualità enorme secondo me ne avevamo parlato a lungo su cosa avrebbe potuto fare il giro a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato finale secondo me da fare molto bene ora tocca vedere anche se si negativizza che condizione arriva se conviene portarlo a un giro per portarlo o se conviene rivedere i programmi è un vero peccato sicuramente secondo me riuscirà più o meno ad allenarsi se la situazione fisica non è critica comunque un paio di giorni di riposo immagino se li sarebbe concessi ugualmente dopo questa campagna delle ardenne in cui è andato veramente forte secondo me potrebbe allenarsi comunque a casa quindi può mantenere la condizione quantomeno la speranza è quella e poi speriamo di vederlo al via del giro d'italia perché mancano quanto manca una settimana e mezzo mancano due settimane oggi è lunedì ventiquattro avril il giro d'italia parte sabato 6 maggio quindi mancano mancano 11 giorni 20 ore 6 minuti e 17 secondi ecco molto bene non è tanto purtroppo è niente non dico sicuramente però potrebbe essere che le sue aspettative possono essere un po ridimensionate e la speranza che possa comunque fare bene a proposito di liegi baston liegi vogliamo parlare un attimo della corsa femminile assolutamente e corsa femminile che è stata vinta da demi violering che ha realizzato a sorpresa a sorpresa nessuno si aspettava che potesse vincere demi violering dopo aver vinto lì anzi le frecce diciamo vabbè dai almeno la 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 liegi alascia alle altre invece no ha dominato anche la liegi basso a liegi battendo in una volata due ed isa lungo borghini che ha disperato un'ottima gara ci ha provato fino all'ultimo purtroppo lei paga un po' un'assenza di spunto veloci che invece da mi vuole ringare quindi porta a casa comunque un secondo posto di assoluto rilievo e mentre terza arriva marlen russer compagna di squadra les di works di da mi vuole ring da segnalare anche il settimo posto di gaia realini atleta classe duemila uno che sta disputando veramente un un'ottima primavera lei è stata protagonista già all'ue tour è arrivata terza la triccia valore settima ieri alla liegi basso liegi scalatrice pura perché è veramente piccoli cioè molto grazie infatti tanto vero che ha pagato un po' anche la nella volata finale perdendo due tre secondi dal gruppo con tutte le altre sono allo sprint però è un talento da seguire perché ricordiamo classe 2001 ha tanto da dare secondo me questo giro e la vedremo tra l'altro faccio una precisazione perché rispetto al calendario maschile scoperto anche te ieri ma hai scoperto anche te ieri ciò che stai per dire no in realtà l'ho scoperto settimana scorsa perché stavo guardando i programmi delle atlete e che appunto la volta in spagna verrà anticipata al mese di maggio quindi ci sarà dal primo maggio a partire dal primo maggio la volta in spagna versione femminile che secondo me al netto del fatto che ci saranno anni meccanbroiden che tra l'altro è data in crescita perché questa ieri la legge è arrivata comunque nel gruppo delle minare inseguitrici di demi bellering e ci sarà appunto demi bellering e questa gamba comunque inevitabilmente va considerata tra le tra le possibili favorite e per sicuro ci sarà la volleric dovrebbe partecipare non è ancora confermato ma no non è ancora confermato ma dovrebbe partecipare però chiaramente sono cose da definire è una corsa molto impegnativa ci sono almeno due arrivi in salita molto interessanti quella mirador de pegnas janas e l'arrivo finale l'ultima tappa e la cosa devo va donga sui quali mi aspetto di vedere cagliarini protagonista e perché no anche qualcosa in più di solo protagonista che da sottolineare secondo me la prova di elisa lungo borghini sostanzialmente lei che ha dato poi il all'attacco finale velo ringlese le si accodata poi sappiamo che elisa involata non è un fulmine di guerra quindi elisa lungo borghini saluta accontentare della seconda posizione probabilmente la sua miglior prestazione stagionale assieme allo e tour che ha vinto proprio davanti a gaiere alini sua compagna di squadra era anche terza la giro delle tiandre ma secondo me non era non era nel primo gruppo diciamo non era il primo gruppo ed era meno sarà meno brillata all'altra ricorda seconda nella volata delle battute dietro apposso ad amico delle ringhezioni proprio corsi e ricorsi storici invece in campo maschile si è disputato il tour of the alps un piccolo molto piccolo antipasto di di giro d'italia non abbiamo ancora parlato tantissimo se non ricordo male io mercoledì non c'era non so se ne avete parlato voi l'abbiamo oscurato perché abbiamo detto aspettiamo che finisca per fare un commento più complessivo perché forse ragazzi questo è il momento è il momento è il momento in cui iniziamo a dire ciao ciao alla stagione delle classi per entrare formalmente nella stagione dei grandi giri se avessimo un fonico adesso partirebbe una musica si è anche perché come diciamo da tre anni a questa parte questa corsa svizzera che poi c'è il mezzo c'è interesse ormai e l'abbiamo detto il primo anno me la ricordo con daniele il commento proprio salutiamo l'ha detto stampa il giro di romandia che oggi stava seguendo direttamente da ginevra e abbiamo fatto anche questa battuta uguale c'è da dire che ovviamente il piazzamento in calendario del giro di romandia per quanto sia una corsa di prestigio di valore storico lo scura un po' perché è esattamente a metà tra le classiche e il giro d'italia tra l'altro non va nessuno che poi fa il giro d'italia perché finisce veramente a rilosso è solo caruso mi pare ok è troppo vicino al giro d'italia è troppo lontano da tour de france esatto un po in una terra di mezzo in cui vanno un po' di scappati di casa delusi della della campagna dell'ardenne tra cui luce 5 e via discorrendo forse ighita simon yates che non so neanche se ha fatto l'ardenne mi pare di no incredibile perché tipo no nai e se non l'ha fatta è una cosa che perché non fare la freccia ballone almeno vabbè non parlo no luni gli unici che vanno che poi faranno il giro sono più i velocisti ecco però è una cosa diversa però se dico cosa penso dei fratelli yates if i speak i'm in big trouble per citare un allenatore caro un po a tutti tranne a riccardo qua dentro c'è esatto va bene tour of the alps vittoria finale di tau gogenhardt che ha vinto le prime due tappe sostanzialmente ha messo in ghiaccio il successo finale grazie anche al ritorno dello sky train che è diventato l'ineo strain che ha condotto il gruppo alla bene e meglio sulle sulle strade del del trentino bene anche l'enarkamna che ha vinto una tappa brentonico san valentino per il resto gli uomini di classifica si sono abbastanza controllati nelle ultime due tappe vittoria di mulberger dalla fuga e di simon car anche lui dalla fuga di giornata come avevamo detto le prime tappe erano quelle più impegnative la quarta e la quinta non hanno regalato grandi scossoni tra quelli che ci hanno regalato dei dei bei risultati anche hug karty secondo nella classifica generale terzo invece non lo nomino vabbè jack egg dai il il mitico jack egg quarto jefferson sepeda atleta di assoluto talento che è finalmente riuscito a fare quel salto di qualità che mi aspettavo da due anni e mezzo quinto lorenzo fortunato migliore degli italiani poi camna sivaco che tra l'altro è andato molto bene anche alla liegi in supporto a picco che non solo perché poi è arrivato tipo 14esimo ottavo buitrago tra i migliori in salita e poi secondo alla liegi ne abbiamo parlato poco però terzo terzo si giusto terzo alla liegi ne abbiamo parlato poco però gran corsa lui si di rimessa puntando al piazzamento però ha puntato molto bene a seguire gal traen pool michel bizcarra e via discorrendo tutti gli altri si è un po nascosto che era in thomas che dovrebbe essere al giro d'italia co capitano assieme a taglio venert da segnalare che dietro cam c'era vlasov che poi si è ritirato l'ultimo giorno perché dove andare a fare la liegi dove ha brillato ha mostrato tutte le sue qualità però a parte gli scherzi si è staccato proprio 100 chilometri si è incommentabile e c'era anche lui vediamo interessante anche capire in casa bora perché pare partiranno con due capitani e quello il segnale che è arrivato al tour of the alps quale poi realmente sarà perché da una parte vlasov da più garanzie come sta facendo una grande stagione tra l'altro da notare che patrick conrad della bora ha concluso il tour of the alps poi arrivato ottavo alla liegi invece vlasov che si è ritirato un giorno prima appositamente per avere più riposo in vista della liegi ci ha regalato un bel dnf credo pensate da segnalare anche un iva ramiro sosa in grande spolvero nelle prime tappe per poi prendere una misciola da circa quattro minuti nella terza che l'ha costretto al diciottesimo posto in classifica ho detto sosa domani stacca tutti ha una gamba mostruosa perfetto no la cosa incredente di sosa è stata vederlo nell'ultima tappa quando ha provato uno scatto da quando è partito a quando è arrivato in testa al gruppo era finito l'attacco detto ciò mi collego anche a un commento che abbiamo ricevuto nei social ti capiamo la maledizione dei corridori spagnoli nel fantaciclismo guarda ci sarebbe da fare una puntata sulle storie dei corridori che abbiamo puntato noi o su cui credevamo noi e poi si sono rilevati dei flop soprattutto tra gli spagnoli e i colombiani si sudamericani sono diciamo un po' una nostra piaga ma ne abbiamo già parlato tra l'altro venerdì quindi è inutile recitare carlos betancur cuori fuori gli spanofoni dal ciclismo no a partire secondo me regala indicazioni importanti perché chiaro mancavano tre grandi favoriti del giro ovvero renko e venepo il primo stroglice ci aggiungo al media che magari non parte come grande favorito ma è comunque un corridore da tenere d'occhio però i segnali di taglio che sono stati segnali importanti jackie che è molto solido gli uccarti ripresa secondo me sono tutti nomi che lasciano ben sperare anche in vista del del giro d'italia anche per vedere qualcosa di più del duello e venerò che sarà sicuramente intusiasmante ma e mi aspetto qualcosa anche da altri corridori non so se concordate non vorrei vedere non vorrei trovarmi con tutto il rispetto eh mando un abbraccio non vorrei ritrovarmi bilbao e janet in top 5 ovvero quest'anno non lo fa il non lo fa il giro tranquillo no da parlo di bilbao e in particolare ma parlo di corridori di quella concordo è impeccato secondo me in quel senso proprio ciccone perché quello che ha dimostrato è forse a livello di spunto veloce o altro in arrivi particolari può inserirsi in quel duello rispetto ad altri che magari peccano un po di più sulla velocità in sé peccato vediamo beh giochi in arte non è uno di questi di questi che vorrebbe essere un corridore che anche a livello di spunto veloce ha dimostrato di poter tenere botta almeno abbiamo visto contro avversari di un certo livello però secondo me può tenere botta a poi sulla inios sarà interessato a capire come si muoveranno perché ne parleremo ma hanno più di una punta sulla carta l'ultima volta che gare in thomas è partito come capitano unico del giro d'italia e poi il giro d'italia l'ha vinto togo di arte quindi secondo me è anche una questione di cabala però c'è chiaro che thomas viene da dal tour e france dell'anno scorso in cui ha chiuso terzo cioè tour straordinario e tutto però quest'anno sembra passeggio è però pure l'anno scorso mi sa che non sarà uno scuro fortissimo però lo porti sulla giro di svizzera andando andando avanti con l'età magari punta di più su un obiettivo solo il problema per lui che spesso e volentieri poi arriva al grande obiettivo e mi è capitato diciamo nel corso della carriera di cadere buttarvi a scivolare stagioni ma neanche vediamo la sua è che non è neanche particolarmente fortunato oltre che essere un pezzo di legno in bicicletta a volte assolutamente dall'altro mi aspetto anche cioè diciamo che linee o sto pari che sarà un discorso che affronteremo anche nei prossimi incontri perché nell'avvicinamento al giro penso che parleremo molto di giro e anzi forse questa sarà la prima settimana in cui non faremo flash race a meno che non vogliamo farlo per il giro di romandia sì ma anche perché settimana prossima non so se avremo voglia di parlare di giro di romandia potremmo fare un bello speciale nei giro d'italia chissà chissà e appunto e tra l'altro poi preparatevi perché ci sarà da divertirsi e no dicevamo è chiaro che eh senza che la neos non ha neanche l'onere di controllare la corsa perché quickstep e jumbo visma sono le due squadre che avranno i favori del pronostico con roglic e venepul e avranno delle squadre che dovranno controllare quindi la neos correndo diciamo al coperto può permettersi di tenere in classifica due tre quattro cinque corridori che stiamo là restiamo a ruota nessuno tira e vediamo che succede che penso che almeno per la prima parte di giro sarà un po così poi certo se vedono che che viene alta alla gamba della vita che garen thomas va fortissimo e che magari anche sila cov o aresman che potrebbero essere al via vanno tanto forte cambieranno le strategie in gara ma l'hanno già fatto anche il passato magari partire più a fare i spenti e poi ribaltare sul giro soprattutto ribaltarlo dopo chiaro ribaltarlo con un renko e roglic mi pare difficile però sarà interessante vedere come si muoveranno sicuramente detto questo direi che possiamo concederci una piccola preview del giro di romandia soprattutto per i nostri amici che giocano al fantasy come noi che quindi sono pronti ad esternare frasi di giubilio e amore verso i corridori e la corsa sì un percorso diciamo standard della del giro di romandia sono cinque tappe di un prologo si parte con un prologo molto breve di sei chilometri da cronometro individuale quindi di 6,8 chilometri che andrà a definire un po la classifica una strada totalmente veneggiante sulle strade di port vale che in qualche modo darà un primo asset alla classifica la prima tappa in linea nonché la seconda quindi che arriva alla valle del giù è una tappa complessivamente vieneggiante presenta 3 gpm diciamo nella prima parte e immagino che al netto di qualche sorpresa si arriverà in volata quindi tappa per velocissimi magari un po più resistenti ma comunque veloci e epilogo forse più imprevedibile nella seconda tappa perché l'arrivo alla scena de fond presenta 4 5 che rappresenta la montagna uno strappetto diciamo a sei chilometri dall'arrivo in realtà non mi aspetto grande bagarre ma magari qualche velocista più puro potrebbe andare in difficoltà e perdere contatto quindi e appunto poi in ottica tanto cycling magari può andar meglio un corridore resistente piuttosto che un velocista puro che però non ne vedo al dia e poi ci sarà la terza tappa la cronometro con da ciotela san denis ciotela san denis sono 19 km con una salita di circa 4 km con una pendenza del 6 per cento che sarà un po il punto chiave quindi anche per non spavorire in maniera eccessiva gli scalatori prima dell'arrivo in salita decisivo a tion 2000 tra l'altro salita molto impegnativa perché si arriva oltre i 2000 metri di dislivello misura 21 km con una pendenza media del 7,6 per cento quindi davvero una bella salita anche dura che sarà un po il giudice ultimo visto che nell'ultima tappa si rivela a ginevra e sarà una tappa ancora una volta riservata ai velocisti che ne pensate di questo percorso ma una mezza zuzzeria però c'è una bella salita che speriamo accenda accendere a bagarre buono che tu sia la cronometro il giorno prima che crei distacchi e speriamo che chi va da forte a cronometro poi paghi un po in salita per vedere magari un po di di sfida di duello fino all'arrivo della tappa di tion 2000 che immagino sarà decisiva vogliamo dare una scorsa alla start list? sì i favoriti potrebbero essere i fratelli yates simon e adam partecipano entrambi oltre a loro attenzione secondo me a matteo jorgensen sergio gita che però non esce molto bene dalla dalla campagna delle ardenne c'è un luis mentes che in questo 2023 sta andando forte tra gli altri Gino Meder, Bardet, c'è Damiano Caruso come abbiamo già detto prima e Ioni Zagirre poi tra gli altri tanti nomi c'è c'è Anuit De Brux che è sempre interessante per vedere come cresce c'è Gino Meder che forse ho già citato c'è Wanayuso che rientra quindi non mi aspetto grandi cose però fa piacere finalmente rivederlo in bicicletta c'è tipo Pinocchio immagino possa puntare a qualche vittoria di tappa e insomma start list abbastanza ricca mancano i nomi di spicco però sì sarà interessante anche vedere se la Ineos cosa vorrà fare perché è la prima volta in cui si presenta con potenzialmente solo Bernal come uomo di classifica perché la tappa quella di montagna mi sembra troppo dura per Eiter quindi direi che Bernal però vediamo come sta Eiter sicuramente ha 5 tappe per guadagnare terreno tra cronometri a buoni però chiaro 20 chilometri di salita all'8% mi sembra una salita che si è fatta forte e immagino che ci siano squadre che possano essere interessate a farla forte lascia anche 10 minuti mi sono appena reso conto di due cose la prima è che ho venduto Alexander Kamp al Fanta Cycling che potrebbe vincere dalle due alle cinque tappe in questa corsa e poi la presenza dell'Eddie Merckx di Ucraina Mark Vadun c'è anche l'altro tuo idolo ucraino Buon Omar Eh però ad esempio Buon Omar attenzione all'Arkestansic perché secondo me questo giro di Romandia potrebbe consacrare Kevin Boakland che sta disputando una grande stagione ha vinto recentemente il Tour de Jura sta bene e l'ha sentito prima e sa che sta bene perché l'ha sentito che sì no io mando un messaggero per chi me lo conosco eh sì perché ormai è dall'anizia che me ne parli io ho scritto ti schiererò al Fanta Cycling tu sta très bien e lui l'ha scritto très bien je vais a gagner le Tour de Romandia e quindi l'ho messo comunque abbiamo parlato di Bernal ci sono anche altri nobili decaduti come Chris Froome e Mark Cavendish che è alla ricerca del primo sigillo direi in Magliastana sì decisamente sì sì ha fatto un piazzamento poco prima però sì c'è anche questo sì no è interessa sì forse potrebbe essere una buona occasione per Masnada segnalo anche sbaragli che dovrebbe essere a rientro dopo qualche problema fisico potrebbe avere un po' più di libertà rispetto al solito vediamo non è che mi entusiasma proprio come corsa e come start list sinceramente non me ne vogliono i corridori a via ma vabbè ci terrà accompagnare in queste settimane in attesa del giro per fare due chiacchie non lo so vediamo un po' sì 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 in realtà cioè non è neanche così male il problema è che non hai motivo per seguirla realmente esatto cioè non si collega a niente è completamente avulsa dal resto della stagione è piantato un po' lì tra l'altro senza eh cosa com'è che si chiamava quello della Katyusha ah Spilak Simon Spilak cioè grande grande specialista di questa corsa soprattutto quando pioveva e ha perso un po' il suo fascino sì beh anche Rui Costa se non sbaglio è stato però mi pare era il giro di Svizzera Rui Costa sì infatti ha vinto 5 tappe al giro di Svizzera e l'ha vinto 3 volte ma domani corri Rui Costa? sì sì ma anche lui non sembra essere rientrato al meglio dopo il primo l'inizio molto buono dopo un piccolo periodo di stop non sembra essere rientrato al meglio io però l'ho punto lui ha usato le classiche per preparare il giro di Romandia ah sì sì ha fatto una dichiarazione ieri comunque Rui Costa tre volte terzo in classifica generale tra il 2012 e il 2014 ci spila che tre volte seconda addirittura tra il 2013 e il 2015 poi con un altro paio di piazzamenti credo Rui Costa se non è anche nel 2019 cioè è proprio Rui Costa è Svizzera si trasforma e l'Itsakir Reb è svizzero si presenta in forma puntuale come un orologio svizzero tra l'altro ha un albodoro di tutto rispetto in Romandia perché gli ultimi vincitori sono stati Vlasov Thomas due volte due volte Roglic Porte Quintana Zachary Frum Frum Wiggins Evans Valverde che poi fu scodificato quell'anno insomma una corsa che ha fatto ha fatto il suo sì sì no ma se non fosse che la settimana dopo sei già in clima giro non ci vanno coloro che faranno il giro in sé avrebbe un suo interesse maggiore secondo me purtroppo vieni da settimane di grande hype perché c'hai le classiche il giro che si avvicina è inevitabile che un pochino l'attenzione sia minore però non si può stare sull'attenti sempre assolutamente assolutamente diciamo che ve l'abbiamo fatto scendere abbastanza perché è una settimana di grande ciclismo quindi vogliamo fare un pronostico secondo me vogliamo fare una bella corsa comunque no 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 quella sì volete fare un pronostico? no non me la sento onestamente io volendo te lo dico pure vai Simon Yates che è quello che va meglio a cronometro dei due va bene ci provo anch'io cioè crono e tappa mi pare che Simon Yates sia il favorito io vi sorprenderò e dirò Chris Froome che sarebbe la svolta totale al fantasy per me io dico i Cambernal e vabbè dai aspetta io dico tipo Pino e dai no per me la vince Gino Meter ma può essere Svizzero sì insomma può essere l'altra corsa di questa settimana è la Vuelta Asturias però una corsa due aspetta guarda te lo cambio il nome se corre da capitano Steven Kruishvik però dovrebbero essere solamente tre tappe esattamente quindi è anche una start list un po' incompleta è fortunato sì insomma diciamo che le squadre al via comunque non sono di primo piano salvo la Movist Arrastana no è la squadra di sviluppo la Astana ah sì pensate ah perché forse faranno meglio forse faranno meglio quella World Tour non è di sviluppo ma in realtà è la squadra dei figli dei direttori sportivi eh dici corre pure il figlio di Vinoguro cioè il figlio di Vinoguro e in quella squadra e ci sta il nipote di Zanini ma eri sono bravi dai sì sì comunque sì c'è tanti argomenti per pensare ad altri in questa settimana ci prendiamo anche noi forse un po' di riposo attenzione però alla Vuelta Asturias c'è il passero di non mi ricordo dove anche il Madrasso con la Burgos V8 attenzione attenzione tra l'altro no voglio guardare il percorso perché sono stato ehm sono stato quest'estate in zona niente se arrivo Viedo ma non c'è niente di che vabbè dai è una roba pure quella comunque dai sì sì è una corsa non penso neanche sia trasmessa su no su Discovery Plus ecco per professionisti 133 esatto 138 km per gli uomini adesso non ho sotto mano quello delle donne in ogni caso 96 un pezzo di storia per quanto riguarda l'Italia ciclistica e non solo vediamo se riusciamo questa aneddota lo sono talmente sul pezzo che oggi sono passato sul percorso del GP Liberazione e ho detto ma perché è chiusa la strada? era perché si stava rispondendo il GP Liberazione Juniors esatto io lo sapevo vinto tra l'altro da Andrea Montagnieri che è uno dei talenti più interessanti del ciclismo giovanile italiano sì ti vorrei far notare che in una start list con 12 squadre ci sono due che si chiamano pellegrini quindi ci devi andare per forza Luca ho visto ho visto ho visto bene bene dai direi che siamo arrivati a Dama sì siamo in chiusura io vi ricordo che in questi giorni se non volete guardare necessariamente il Giro di Romandia ci sono tanti altri sport come il Mondiale di Scacchi e il Mondiale di Snooker che sicuramente troverete su i canali di Eurosport se seguite abitualmente lì ci ho detto per oggi direi che è tutto abbiamo parlato della Liegi e della campagna dell'Ardenne ma non solo l'appuntamento immagino che sia questo punto per la prossima settimana noi torneremo in diretto ovviamente lunedì prossimo alle 18.30 con la diciottesima valutiamo se è lunedì ma sì sicuramente lunedì poi al massimo è primo maggio vabbè ma lunedì è lunedì e io non ci sono ma non perché sto a un vacanza ma perché lavoro per quello te lo dico tendenzialmente lunedì poi magari non sarà lunedì adesso vediamo sicuramente faremo uno speciale di Giro d'Italia quando ci saremo tutti e tre quindi rimanete sintonizzati vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri account social in particolare su Instagram seguito dall'encomiabile Luca Pellegrini faccio un saluto ciao a tutti no non così un saluto così era per dire dai seguiteci su Instagram che facciamo ah ok no no abbiamo anche le grafiche nuove stiamo facendo veramente un lavoro molto interessante ci sto provando contro ogni mia resistenza all'utilizzo di social stiamo provando a fare qualche cosa di più interessante comunque cerchiamo a parte tutto di tenervi a giornata su quanto accade tra storie post reel eccetera eccetera e niente vi ricordo anche di guardare se vi va la nostra pagina Copi dove potete fare una piccola donazione al podcast Ventaglio Second Podcast ovvero il nostro podcast sul ciclismo in modo tale da consentirci di migliorare le nostre attrezzature che per ora si limitano ad alcuni microfoni di indecente fattura addirittura Luca ha un microfono che fa per la maggior parte della puntata però poi nel lato originale si sente bene quindi è solo per dar fastidio a Gianluca pensa te che bello ti ho detto niente anche per oggi è tutto ragazzi come sempre un piacere farò il riciclismo con voi e l'appuntamento è alla prossima puntata di Ventaglio Podcast ciao a tutti buona serata ciao a tutti 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 ciao a tutti